Ehi tu, sì, sto dicendo proprio a te che stai guardando questo video. Se arriviamo ai 50.000 iscritti entro metà aprile farò il Face Reveal. Quindi fai iscrivere cani, gatti, parenti e zii. E ora, buona visione! Mr.Biz! Oh no, ancora qui! Mi ero dimenticato di quei piccioni. Ehm, ok, quello che dovevo fare era prendere i piccioni. Ma non ho capito perché morivo quando avevo aperto la porta. Bravo! Oh no, no! No, fermo! Ah, no! No, 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 no! No, che succede quando si spegne la luce? Vieni, vieni! No, 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 mi arrendo! Ho preso qualcuno! Non ho preso nessuno! Ho preso qualcuno! Sì! Vieni, 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 vieni. Sì! Vieni al mondo! Io ho paura di fare sta roba per andare al buio. Ti ho visto per un attimo, ho glitchato. Dici la verità, non lavori per loro. Vero? Ah, ok. Che ansia! Vieni qua! Ah, bravo. Ecco qui Stai qui insieme ai tuoi altri fratelli Io vado a prendere gli altri fratelli Mancano due Ok Non devo premere troppe volte la E Perché faccio sta cosa Mamma mia quanto urla quello da solo Io impazzisco Io impazzisco E con questo è finito Come ci sono ancora C'è qualcun altro? Quindi vorrei dire di fare una cosa Io mi avevo fatto male Perché avevo aperto e mi ero buttato E ma c'è una pila lì Quindi se io faccio Cosa? Ma Scusa Ma si è teletrasportato L'avete visto pure voi si è teletrasportato vero? Dietro di me Ma è Goku? Ho capito La lumaca è quella lì che dovevo evitare Quando tieni gli occhi in su O Sì Sì Beh andiamo Ok forse ho capito questo come si fa Dai allarga gli occhi Allarga gli occhi Allarga gli occhi Allarga Non allarga gli occhi Non allarga gli occhi Allarga gli occhi Come faccio? Ah doveva parlarmi Che ansia Non vedo andare porta per porta Adesso crepo Sì Ok Ora lui guarda la porta e io potrò correre Cioè io mi sono tolto proprio le mani sopra la tastiera Lontanissime dalla tastiera Oh no Dai sono verso la fine Sono verso la fine dai Dai Ma cos'è sto coso? Sono una lumaca gigante Che schifo Perché esiste sta cosa? Ho pure ansia quando parla Non si apre Non si apre Non si apre Cosa devo fare qui? Non si apre Cosa devo fare? Non si apre Where are you hiding? Where are you hiding? Ok penso di aver preso tutte le conchiglie Ok penso di aver preso tutte le conchiglie No c'è un'altra Devo fare otto conchiglie Quante ne ho fatte ora? Ah devo fare uno per uno Later Sì Eh ma vai La carta verde Ho preso Ma come faccio? Oh adesso ho capito Non ho più capito Ho capito adesso Io devo premere questo E ci sarà un gioco Ah no Ah adesso è tutto più chiaro Ma dai Fuoco Carigare Fuoco Sì Carigare Fuoco Sì Eh? Che ho fatto? Ehm Vai Sì Ricarico Let's go Sì Sì Dagli 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 Roma Dagli Dagli Sì 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 Ok Dove risalire ora Ok Dai Sì È molto più complicato Sì 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 Vai Vai Ok Ora devo risalire Al volo Al volo Al volo Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Signori E abbiamo sbloccato la nuova zona Let's go Sera E ora Devo fare Un'altra carta Oh quella azzurra Qua c'è una roba azzurra Quindi Non è che io devo uscire adesso Perché Sei andata alla lumaca Penso Vabbè Io mi prendo un proiettile Per sicurezza Ha aperto la porta Vabbè Io devo andare di qua Che avevo visto Qua c'era la porta azzurra Zoom Cos'è È il paradiso Cos'è sta roba Cos'è Ma pure il parkour qua Si deve fare Basta Mi basta solo su minecraft A me Dai Oddio C'è Devo farlo su minecraft Human for flat Basta parkour Swim Ma 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 Vai Vai No Sono vivo Non so come Sono vivo Non so come Sono vivo Sto impazzendo Pronto qualcosa Una videocassetta Oh C'è la fine Un nerco Or nes Ner 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 Sì Mamma mia Ho avuto un ansia Fortissima Basta Ste luci Veramente Al most No Mi puzza Mi puzza Puzza Sta roba Mi Puzza Cos'è sta Regà Cos'è Ma se le porte Che Qui Qui Dove essere Unisco No Non mi interessa quello che dici Ti chiedi scusa che mi hai colpito e mi hai rapito? Ma vai a quel paese Ma questi sono nuovi Non li ho visti No io di questo ho paura Io sono qui per il mio figlio Mio figlio è stato qui? Cioè io ho un figlio? Wow che padre bravo che sono Per perdere mio figlio in questo posto Apri? Opila? Porta di Opila? Apri! Apri! Corri! No 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 No! Che succede? No 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 Come? No mi sono fatto fregare No 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 Aspetta Ti frego Ah Double Ah Tutti si sono averti Ora ci penso No 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 ora ci ho pensato Ok devo andare a sinistra Ok No 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 Non so dove devo andare No 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 Ce l'ho dietro di sicuro Ce l'ho dietro 100% non mi in giro Di là ho preso il sbaglio e il bottone No non si apre Devo passare Non è che devo fare così Prego dimmi funziona Dimmi che vieni schiacciata Ti prego dimmi che vieni schiacciata Non vieni schiacciata Perché Oh funziona Ti prego Ti prego Ti prego I like it KG E si um Ci godo Si um Cammino uno Si Apri questa porta Mi voglio andare Ora voglio andare io Ok E Si E si um signori Ce l'avemmo fatta Dagli Roma Si 1 a 0 Contro Contro Dottor Che Si 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 Sono troppo felice E da un bel No matter What Wait Ah Ok Nura di che Un cappello Cool E' stato sbloccato Wow E' finito Su E' finito E' finito E' finito